Grazie per la visione! Siamo andati in vantaggio, poi piano piano abbiamo macinato il gioco e siamo riusciti ad attaccare, abbiamo fatto due gol, penso che dobbiamo attivare più pallate. Il pallorea con i giocatori, il Deportivo, la Corugna. 17! 17! Cognome? Finale! Primo tempo che vede sul rischio di dono per la scuola avversaria, non state giocando mai, la partita è stata equilibrata fino alla fine del primo tempo, poi un'occasione per loro per il vantaggio, il minuto proprio finale del primo tempo, cosa mi dici? Stiamo giocando non molto bene, ci mancano anche due di loro forti della squadra, il secondo tempo cercheremo di rimontarlo. Cosa c'è da migliore per il secondo tempo? Devo giocare più palla a terra perché siamo bassi, dobbiamo cercare di segnare. Vabbè, siamo con le persone, non mi riuscite la seconda parte del gioco, troppo da mangiare. La terza giornata di Seven Cup tra United Boys contro il Deportivo della Corugna, con i migliori in campo dei suoi Rinaldi e migliore assoluto Mazzaro. Partiamo da Rinaldi, partita dura per 7 a 2, cosa si deve migliorare in questa partita? Sì, ma dobbiamo giocare più palla a terra, ci mancavano anche tre elementi della squadra, è andata così e abbiamo giocato anche male. La torre stazione è stata buona con due reti, la difesa è venuta un po' di meno in questa partita. Ci mancava il perno della difesa. Ottavano, puoi salutare qualcuno in particolare? Saluto tutta la squadra, gli assenti, cercheremo di rifarci la prossima partita. Sì, grazie, ciao. So che è il migliorio in campo, Nazzaro, 5 reti per lui, con la medaglia? 5 reti, mi raccomando. 5 reti, ha detto. La partita 27 a 2 senza molte difficoltà, dominata per gran parte da voi, cosa dici? Cosa è andata? È andata bene, abbiamo vinto. Ci deve migliorare un po' tutto perché siamo tutti nuovi. La squadra nuova? Sì, sì. Vabbè, girate bene per giocare all'inizio insieme. Diciamo che siete stati un po' troppo leziosi nella parte finale del match. Vabbè, alla fine ci siamo divertiti. Abbiamo puntato a divertirci. Vabbè, puoi salutare qualcuno in particolare? No, ringrazio la squadra. Ok, grazie, ciao. Saluto tutti da buon tempo. Ciao, ciao. Ciao.